Salve a tutti e benvenuti al secondo video per il tempo del creato. Questo progetto è nato dalla collaborazione tra diversi uffici pastorali e alcune associazioni della diocesi di potenza. Questi video hanno la finalità di far riflettere voi ragazzi sull'importanza del creato e in questo specifico momento sull'ascolto del suo grido. Sì, lo sapete che il creato grida. Spesso e volentieri noi non ce ne accorgiamo, ma le nostre azioni, anche le più piccole, infliggono grandi dolori al creato. Questa nostra inconsapevolezza deve cambiare e noi vogliamo iniziare proprio da qui, da questo video interattivo. Avete capito bene, in questo video sarete chiamati a prendere delle decisioni per mandare avanti le storie che vi verranno presentate. Alla fine di ogni video vi verrà chiesto di scegliere su questa schermata una delle due opzioni, ma ci raccomandiamo di guardare il video o su un computer o sull'app di YouTube dei dispositivi mobili. Nel caso qualcosa non funzionasse, vi invitiamo a guardare nelle informazioni del video per poter cliccare su uno dei due link che vi manderanno al video successivo. Tutto chiaro? Facciamo un esempio. Vi domandiamo vi è chiaro come scegliere?